Gentili telespettatori, buona giornata. Un altro successo del governo Meloni. Diciamo che questa è la settimana d'oro del governo Meloni dopo alcuni fatti che hanno messo in discussione. All'improvviso, capisce a me, arriva il processo per Del Mastro, il processo per la Santanchè, la sorella della Santanchè, il compagno della Santanchè, la russa, insomma, abbiamo visto che nei giorni passati c'è stata una concentrazione di indagini curiosa, se mi permettete il termine, curiosa, proprio nel momento che si stava per votare la riforma dell'anno giustizia, tutte queste indagini. Capirete che è un po' sospetta come cosa. Che dite? Un pochino? Però, attenzione, non buttiamo paranoie a grappolo, non buttiamo paranoie a grappolo. Sono solo coincidenze, o come cantava qualcuno, sono solo canzonette. Comunque, andiamo avanti, ci siamo capiti e tutti sappiamo. Arriva l'accordo sulla terza rata, PNRR. Entro l'anno 35 miliardi compresa la quarta rata. Il governo Meloni, dopo soprattutto anche il successo con l'Egitto, perché l'Europa ha dichiarato che aver liberato questa persona, Patrick Zaki, è un passo avanti enorme, gigantesco, nei rapporti tra Egitto e Unione Europea. E l'Egitto ha tutto da guadagnare con l'Unione Europea, perché i turisti in Egitto sono gran parte europei e chi può aiutare l'Egitto è proprio l'Europa che c'è di fronte. Pertanto, una mano lava l'altra, nel senso che l'avvicinamento dell'Egitto fa anche avvicinare l'Europa all'Egitto, grazie all'intervento di Giorgia Meloni sulla liberazione. Pertanto, oggi, magicamente, dopo il successo diplomatico italiano, arriva anche la liberazione di tutte le rate del PNRR. Accordo raggiunto sul problema dei posti letto, per esempio, negli studentati universitari che dovrebbero sbloccare. Anche con mesi di ritardo, la terza rata del PNRR arriva. L'intesa che il Ministro degli Affari Europei, Raffaele Fitto, presenterà oggi alla cabina di regia del PNRR, articolata su più stadi per risolvere un problema di fondo. L'Italia, secondo la Commissione Europea, non era riuscita a raggiungere l'obiettivo quantitativo previsto di aggiungere 7500 posti letto in studentato entro la fine del 2022. Il Governo si è sempre detto convinto di aver soddisfatto questa richiesta, ma secondo Bruxelles una parte dei posti letto era preesistente e non avrebbe dovuto essere contata nel finanziamento. Posso dare un consiglio spassionato? Ci sono tutte le caserme che sono state recentemente chiuse. La caserma dove ho fatto il militare io, il secondo battaglione del Genio Ferrovieri a Torino. È una caserma perfetta per fare posti letto, perfetta. Non era decadente né niente. L'hanno chiusa perché hanno chiuso diverse parti delle forze armate. Quindi prendete quella caserma lì, mettete delle tramezze, lì c'era la mensa, c'è tutto lì. Uno spiazzale enorme, fatto tipo giardino, porticati. Insomma, lì vengono fuori non so quanti posti letto. Su, qui ci vuol poco. Creare posti letto con tutte le caserme che ci sono dismesse. Altro che 7500 posti letto. Ci fai posti letto anche per chi non ha la casa. Ecco, per persone che non hanno le case, prendi le caserme. Pertanto forza, forza, sveglia, forza e coraggio. Bene, il compromesso è il seguente adesso. 7500 posti letto da fare subito e poi bisogna avviare le procedure necessarie, gare, autorizzazioni, perché l'Italia crea un numero complessivo di 60.000 posti letto universitari in più entro la fine del 2026. Questo obiettivo qualitativo inoltre non sarà più legato alle scadenze della terza rata, ma a quelle della quarta rata. Quindi l'Europa ci dice, vabbè dai, avevate conteggiato i posti letto sbagliati, adesso fateli, senza correre, ma fateli. Entro il 2026 fatemi sti posti letto. Quando arriveranno gli sordi. In questo modo il pagamento della terza rata verrà effettuato senza tenere conto i canoidi festeggiano. Li sentite? I canoidi applaudono. I canoidi sono i miei amici e quattro zampe, quindi il mondo animale sta esultando. Tuttavia la quota di fondi fra 300 e 500 milioni verrà integrata negli obiettivi della quarta rata e versata con quella, sempre che le condizioni risultino soddisfatte. Dunque nel complesso le somme versate all'Italia per la realizzazione del PNR sarebbero immutate. Ci sarebbe anche l'ipotesi di versare simultaneamente al governo la seconda metà di quest'anno, la terza rata e la quarta rata, per 35 miliardi di euro complessivi. Sulla carta oggi la terza rata vale 19 miliardi e la quarta ne vale 16. Oppure in alternativa, che sembra molto più probabile, si cercherà di erogare al più presto la terza rata e dentro l'anno anche la quarta per un totale di 35 miliardi, che nel complesso dunque non cambierà. Buone notizie per il Paese, indipendentemente che lo abbia fatto il governo Meloni o il governo Cippalippa, va bene, notizie positive per il Paese. Tutti, anche quelli che ideologicamente hanno i muri davanti al naso e non direbbero grazie al governo manco per nulla, bisogna dire le cose come stanno. Le cose questa settimana volgono per il meglio, pertanto speriamo che continuino così. Non bisogna gufare contro il Paese, se voi siete tifosi della sinistra non dovete gufare contro il Paese. Rendetevi conto che avete la Schlein, che avete Conte, che avete Bonelli, Soumaoro, la Boldrini, insomma dovreste essere soddisfatti di avere politici di un certo spessore. Io vi invidio a sinistra, avete dei politici eccezionali, invidiabili, che il mondo vi invidia. Pensate a quello piuttosto che gufare contro il Paese, perché non si gufa contro il Paese. Non è bello, non è corretto, non è intelligente gufare contro se stessi, pertifare per dei politici che manco vi conoscono e non vi conosceranno mai. E loro prendono tanti bei soldini e parlano con l'armocromista, mentre voi non avete niente da mettere nel frigorifero. Sveglia! Arrivederci a tutti e grazie.